buongiorno a tutti buon santo stefano visto che oggi è la festa di steve oggi farò una specie di recensione per spiegarvi le principali applicazioni che secondo me devono esserci su iphone per coloro che magari hanno appena acquistato un iphone come la mia amica valentina o comunque per tutti i possessori anche degli altri device apple che magari alcune applicazioni che citerò sono universali quindi funzionanti anche con ipad quindi iniziamo innanzitutto consiglio sicuramente l'applicazione camera plus che permette di avere una gestione migliore della fotocamera rispetto a quella predefinita dell'iphone e permette anche di avere un vasto insieme di colori ed effetti speciali che si possono avere con questa applicazione e condividerli anche con i social network a cui siamo più legati poi la cosa particolare che quando noi facciamo una foto possiamo anche cancellarla ancora prima di salvarla sul rollino e quindi vedere già in anteprima la foto come sarà e poi cancellarla prima di prima che venga già salvata sul dispositivo poi un'applicazione per noi studenti anche universitari soprattutto è i studies pro che essendo universale è possibile averla avere lo stesso la stessa applicazione sia su iphone che su ipad e ogni volta che faremo una modifica su uno dei due o tre dispositivi nel caso installeremo anche l'applicazione su mac avremo gli aggiornamenti e la sincronizzazione completa anche sugli altri dispositivi insomma poi come navigatore consiglio navigon che è un ottimo navigatore per iphone poi ogni tanto fa anche degli sconti quindi è possibile averla anche a un prezzo ribassato è disponibile la mappa italia e la mappa europa con ovviamente la possibilità di scegliere anche solamente alcune parti dell'europa non tutte e ovviamente il consiglio di scaricare le mappe in wifi in 3g sarebbe un sforzo immane poi passando per quanto riguarda l'aspetto del 3g consiglio sicuramente soglie dati io l'ho scaricata quando era in gratuite in quanto in alcuni momenti alcune applicazioni diventano gratuite e questa applicazione ci consentirà di sapere quanta quanta soglia stiamo utilizzando dei dati a disposizione a settimanalmente o mese in mente con i vari operatori infatti comprende sia 3 vodafone team e wind poi un'applicazione che secondo me è essenziale che mi ha sicuramente migliorato la vita con il 3g è onavo extend che permette di controllare meglio i dati nel senso che comprime molto sia le applicazioni che utilizziamo che l'utilizzo della rete 3g in modo tale da risparmiare quindi riuscire ad arrivare alla settimana con più tranquillità rispetto a non avere questa applicazione infatti fa una compressione proprio dei dati quindi riusciamo a arrivare anche risparmiare un bel po io con una settimana riesco anche a risparmiare un 100 o 150 megabyte poi sempre della stessa software abbiamo un account che permette di vedere le applicazioni e l'utilizzo di tali applicazioni durante la settimana e durante i giorni e quindi capire quali applicazioni consumano di più e quindi magari scegliere se cancellarle o meno un'applicazione che considero indispensabile sia su iphone che ipad è app gratis che permette di trovare applicazioni che vengano scontate o comunque rese gratuite ogni giorno ci verrà fuori una notifica e potremmo avere proprio le ultime applicazioni anche con costi magari da 8 euro diventano gratuite e quindi un ottimo regalo ecco e poi abbiamo super guida tv2 che consente di vedere avere il palinsesto televisivo anche di sky e anche della svizzera italiana rsi oltre che mediaset premium e i canali gratuiti del digitale terrestre poi sicuramente il meteo anche c'è anche la versione gratuita a differenza con la plus si tolgono la pubblicità ma per il resto è veramente eccezionale riesce a trovare e a dare dei meteo veramente funzionali non alla cavolo poi sicuramente svacket è un'applicazione meteo che ci permette di capire come doverci vestire a seconda della giornata e di come siccome conosce com'è il meteo ci consiglierà come vestirsi per iphone 5 è stato creato svacket x che è ovviamente aggiornato è stato fatto soprattutto per iphone 5 infatti è più allungato e per il resto comunque le funzionalità sono quelle poi per coloro che hanno facebook e vogliono avere una sincronizzazione migliore consiglio sync me che permette anche di sapere quando ci sono i compleanni dei nostri contatti e anche comunque sincronizzare quindi avere quando noi riceviamo i messaggi ci chiamano avremo la foto profilo di facebook sul sui nostri contatti poi per coloro che leggono i feeder ss quindi le notizie tramite google reader consiglio newsify che è fatto benissimo sia per iphone che per ipad ed è universale quindi si compra comunque si scarica una volta e non si hanno più problemi per gli sportivi consiglio sicuramente live score addiz per quanto riguarda il lato sport quindi tutti i gol fatti e altro di vari di vari settori anche solo anche nazionale e serie b e serie cadette anche estere poi sempre di live score continua il sofascore che permette anche soprattutto di avere notizie di sport stranieri come baseball rugby volleyball e basket americano e altro poi consiglio stockard che è un'applicazione che ci permette di avere la lista dei nostri card e quelle che prendiamo ad esempio a s lunga così che ci fanno gli sconti facendo una foto copiando il il seriale diciamo ci permetterà di utilizzarle quindi di non dover portarci le schede ma semplicemente mostrando questo alla cassa potremo utilizzare questa applicazione poi se avete bisogno di un'applicazione che se avete di notte avete bisogno di avere una luminosità subito bassa aprendo questa applicazione potrete avere proprio un vero e proprio interruttore e cliccandoci sopra vi abbasserà direttamente alla luminosità più bassa e quindi meno fastidio alla vista e più funzionalità per l'utilizzo del vostro iphone o ipad durante la notte sicuramente consiglio whatsapp per coloro che hanno amici con android o altri dispositivi non iphone visto che con iphone comunque adesso si utilizza soprattutto i message e niente è un'applicazione che ci permette di scambiarci messaggi foto video e altro e anche anche note vocali in modo tale da poter parlare con i nostri amici in gratuità kick è un'altra alternativa a whatsapp e rispetto a quest'ultimo permette di utilizzare un nome utente quindi non daremo il nostro numero telefonico ad altri ed è utile soprattutto per coloro che magari utilizzano i social network che vogliono avere contatti con i loro follower o altro ma soprattutto senza rovinare la propria privacy poi sicuramente come browser consiglio chrome in quanto si sincronizza con google chrome che utilizzate magari in windows o in iphone o comunque in ipad c'è nel senso col mac poi per coloro che hanno la patente consiglio ai patente che permette di accedere ai servizi del portale dell'automobilista se siete registrati vi permetterà di sapere i punti e scadenze stati delle pratiche veicoli che avete in possesso e altro con numero di punti attuali e molto altro ancora fatto veramente bene che consiglio a tutti i guidatori e poi ovviamente consiglio l'applicazione youtube che è stata recentemente rimessa su app store prima era integrata in ios che permette di vedere video avere la grafica di youtube e comunque di utilizzare youtube direttamente sul proprio iphone e ipad vi ringrazio per l'attenzione ovviamente cercherò di lasciare i link principali che ho descritto delle applicazioni nella descrizione del video vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video vi ringrazio per l'attenzione eitelma es gates разбita in ios